Musica Amici appassionati di calcio ben ritrovati in questo nuovo episodio con il Giro nella non astraccare allenatore qui su A23 Atalanta Grifone subito contro la squadra allenata da Gasperini Siamo pronti per iniziare l'episodio ma non sono altrettanto pronti certi giocatori perché dello FFT infortunati Satreano, Lillito, Frendrup, Gambiaso, Ostigard Non possono assolutamente permettersi di giocare per 90 minuti quindi vedremo se farli partire dalla panchina o tenerli per almeno 45 minuti Tanti dubbi, tante le scelte che dovremmo appunto prendere sin da subito in un episodio tra campionato e Coppa Italia Che ci metterà a dura prova perché appunto affronteremo partite difficili, impegni importanti tra questi anche il derby della Lanterna contro la Sampdoria Ho un guasto d'amore, non riesco a star bene, perché non ti vedo per tutte queste sere Ho un guasto d'amore, se vedo il Grifone In campo qui nel Gevy Stadium per Atalanta Genua, pronti per iniziare Speriamo di far bene, la squadra l'abbiamo visto, non sarà quella titolare Anche se abbiamo deciso di tenere Ostigard, di tenere Satriano però la trequarta è cambiata, Romero, Gudmonson Il ritorno poi di Singo dopo la sua prima partita con il Grifone sulla sinistra, non giocherà Cambiaso, giocherà Tonilato in mezzo al campo Non Frendrup, ma il buon Dani Sebaios, l'inquadrato Martin Satriano, l'inquadrato Schemper Speriamo di non subire gol e di farne tanti, inizia Atalanta Genua, forza ragazzi Romero, Satriano, Gudmonson, sempre questi scambi, zone centrali, Gudmonson Mamma signori ma dobbiamo aggiungere altro, dobbiamo aggiungere altro per Adel Gudmonson Il numero 11, l'unico giocatore che veramente ci mette sempre il massimo Pazzesco ragazzi, nonostante mille limiti Sua maestà, Albert Gudmonson Tiro praticamente da 20 metri La conclusione perfetta, spettacolare L'urlo di rabbia da parte di Albert Gudmonson Avanza per via centrale, adesso prova a rispondere la Dea Ostigard, ottima copertura, poi non perfetto Tonilato Allora attenzione Folland Ostigard poi, di nuovo a mettere una pezza sugli errori Da parte dei suoi compagni di reparto Genua adesso schiacciato, Pessina Arriva il pallone in mezzo, Medosic non riesce proprio a deviarla bene E qui abbiamo rischiato tantissimo Poi le finte, si gira, il passaggio, il sinistro poi E il pareggio di Volland C'aveva già provato nel corso di questi ultimi 10 minuti Forse con la conclusione più complicata, più difficile Riesce a trovare il gol del pareggio Tiene palla Poi va a servire Tonilato Il pallone in mezzo per Gudmonson la colpisce di testa Trova sì la porta, però troppo facile per le Desma Tonilato Romero Raskin che chiama palla Poi Satriano, attenzione Satriano Satriano la controlla Satriano davanti alla porta Pazzesca occasione questa per il Gino Si arrabbia tantissimo TS 17 Corner sì Ma cosa ha sbagliato Satriano ancora Satriano Sempre lui Tiene palla Aspetta, temporeggia Poi vuole fare tutto da solo Poi alla fine il passaggio per il compagno Volland La conclusione è dalla distanza A parte di Niccolò Fagioli Il salvataggio a parte di Schamper Ederson Dalla distanza Ostigar Cosa combina? Veramente Messo tanta paura ai suoi tifosi Gudmonson Intanto Fred Gudmonson Si va velocemente da Satriano Poi si cambia per Illiot Appena entrato Super Harvey Illiot Che numero Harvey Illiot Va servire Satriano Sanabria e Satriano Qua ragazzi scioglie lingue Clamoroso Gudmonson Grande occasione Non è finita ancora il Genoa Poi la conclusione Sporcata Pallone ancora buono Destro TS 17 Tori Sanabria 2-1 Eravamo ad un passo veramente Da Il brutto pareggio Dalla rosicata Su quel Momento finale In cui ci siamo divorati Il 2-1 L'azione per fortuna Poi è continuata Il possesso palla del Genoa Sempre lì ad occupare La tre quarti campo E poi Il passaggio Per Sanabria Che questa volta Non sbaglia Cabral avanza Qua ragazzi Ultima azione Ultima occasione Ultima opportunità Ostigard Ostigard Il guerriero del Nord Finisce qui al Gaming Stadium 2-1 per il Grifone Voglio ricordarvi che Comunque stasera Inizierà il sondagione Della carriera natalizia Voglio ricordarvi che Domani Sabato uscirà Un video Rebuild Su FIFA 23 Il primo Credo Video Rebuild Su FIFA 23 Con lo United Allenato da Rudman Nisterroi Voglio ricordarvi Perché ancora non lo sapesse Che questo Genoa Questo Genoa Vuole assolutamente andare Almeno in Conference League Derby Della Lanterna Stadio Luigi Ferraris Zona Marassi Genova Con i tifosi fuori Con le bandiere al vento Con anche la garra La cattiveria di Blessing Tra poco Derby Tra poco Gena Sampo Siamo già alla giornata 24 Siamo già vicini ormai Al termine del campionato Non mancano molte giornate Non mancano molte episodi Poi come ho detto a tanti Perché tanti curiosi Dicono Mister Ma la carriera natalizia Sostituirei al Genoa Farai un'ultima stagione E ho detto Vediamo Come finisce questa Io Queste carriere Le chiudo quando sono Personalmente soddisfatto Di quanto fatto Però Ve lo dico Potremmo chiuderla Qualora magari dovessimo Alzare al cielo Una Coppa Italia Ma non la chiuderei assolutamente Qualora invece dovessimo andare in Europa Perché Abbiamo aspettato a lungo l'Europa E vorremmo appunto giocare In Europa Ma probabilmente anche con la vittoria Di Coppa Italia Un'ultima stagione Con il griffone La faremo comunque Stiamo sognando in grande Ma per farlo bisogna Continuare a fare Come abbiamo fatto con l'Atalanta Pizzico di fortuna Magari non avremmo proprio meritato Di portare a casa I tre punti Però l'atteggiamento L'atteggiamento Di questi ultimi episodi Mi sta facendo tantissimo Secondo me Non è un caso Che Due episodi Due partite Dove un Geno Tiene poi Il gol vittoria Proprio negli ultimi Dieci minuti Singo Lungo la fascia destra Bravo Singo Arriva il Cross Non perfetto La conclusione Da fuori Da parte di Segovia Salva Facile Schemper Satriano che chiama palla Illiot Si affida poi Sulla Fascia occupata da Cambiaso Ancora scambio con Illiot Con l'esterno Ha cercato ancora Un altro super goal Qui Harvey Illiot Postigard contro De Luca Alla meglio De Luca Poi Samp che fa molta fatica Nel Avvicinarsi All'interno della nostra area di rigore Gudmonson Bello Questo lavoro Per andare poi a servire Cambiaso Arriva il pallone Importante Per Satriano La controlla C'è Singo Lì Non è fuorigioco Singo Ha cercato La conclusione Di nuovo la deviazione Di nuovo il corner per il Genoa Ancora il colpo di testa Questa volta ancora In realtà La parata La differenza di prima Non facile Non scontata Il portiere Samp Poi Satriano Alla fine Palla sul fondo Uh male qui Può approfittarne il Doria La conclusione Per fortuna deviata Dalla nostra difesa Singo C'è Gudmonson Passaggio Un po' così Un po' così Gudmonson Ma segni in tutti i modi Questo giocatore È un fenomeno 1-0 Prima di andare all'intervallo Gran lavoro comunque Da parte di Singo Ma cosa si è inventato qui Gudmonson Impazzisce il Ferrari Si impazzisce la gradinata a nord Il Genoa passa in vantaggio Andiamo a rivedere qui Intervento a vuoto A parte Il difensore Doria Il passaggio alto Per Gudmonson Che dal momento Ha capito che non poteva Andarci con i piedi Ha detto Io mi tuffo Poi vediamo Tuffo Che va a buon fine Ragazzi Tacco La fondo da parte del Doria Viera destro Facilissimo per Schemper Praticamente Riescono ad andare In porta solamente così Ultimo intervento Da parte di Amedozic Che si prende anche qualche rischio Satriano Finta di Satriano Prova a sfondare Satriano Conclusione Derby vinto dal Grifone Dentro un muro Al posto di Ferrari Vinto perché ragazzi Siamo al minuto 91 Possiamo tranquillamente Battere questo corner Come meglio crediamo Col Traversa Da parte di Amedozic Così L'abbiamo battuto Così Stava per nascere Un super gol Per il Genoa Che però A prescindere Vince Nuovamente Il derby Della Lanterna Ora Quarta di finale Di Coppa Italia Sarà Milan Genua Ma prima Guarda la classifica Da un po' che non la guardiamo Siamo Ottavi A pari punti Con Napoli A meno 4 Dal sesto posto A meno 7 Dal quinto E a meno 8 Dal quarto Non è una brutta situazione Non è affatto Una brutta situazione Però Il livello Di quelle squadre È alto Quest'anno Non sembra esserci La sorpresa Con la squadra Fuori posto Almeno Fino al secondo posto Poi vai A guardare Chi è primo E vedi una Fiorentina Che È a 50 punti Prima davanti Alla Juve Mignan Teo Hernandez Tomori Marsau Bangura Che non conosco Ben Nasser Tonali Lemarla davanti Con Gordon Sulla sinistra Raffinia Sulla destra E Charles De Ketelare Come Sorta di centravanti Più seconda punta Più punta completa Super Milan ragazzi Super super Milan Però Manca secondo me Il vero centravanti Non ha più quel giocatore Quell'attaccante di peso Gioca in maniera diversa Sulla squadra allenata Da Stefano Pioli Però sempre una faccia sinistra Che porta Tantissima qualità Risponde così il Genoa Andando a confermare La stessa formazione Vista nel derby Contro il Doria Allora in campo a San Siro Quarta di finale di Coppa Italia Lo spugliatoio dei rossoneri In una partita ragazzi In una competizione Che Basta fermarsi qui Ci siamo sempre fermati Più o meno Ai quarti O agli ottavi Per una volta ragazzi Per una volta Facciamo quella partita Sporca Brutta Ma dove Poi Usciamo da questo stadio Con una qualificazione In uno stadio Contro un Milan Che però Che però ha sempre dimostrato Che cosa Che ce la giochiamo Fino ad una certa Poi appena segnano Crogliamo E ne prendiamo Poi almeno tre Milan Genoa Quindi Quarte di finale Di Coppa Italia Guardate Guarda Ma questo è uno schema Egnara Attenzione Intervento di scivolata Iliot Disturba Il disimpegno Ancora il Milan Che ci prova La conclusione Poi Il sabotaggio di Schemper Cucureia Contro Tony Lato Cucureia Lo supera in qualche modo Ora Cucureia Tony Lato E questo è calcio di rigore Non abbiamo Non siamo neanche andati Col contrasto Siamo semplicemente Andati addosso Però questo purtroppo È rigore Un rigore Forse di Di rabbia Un fallo Stupido Da parte di Tony Lato Intanto però Schemper Salva Ancora il Genoa Sbattuto pure sul palo Pur di salvare Il Genoa Dal raddoppio Dal gol che poteva Chiudere poi il discorso Qualificazione per il Milan De Ketelare Ancora Super Schemper Nuovo Milan Il passaggio La conclusione E attenzione Perché non è finita C'è stato L'intervento Anche se non l'abbiamo Praticamente visto Da parte di Schemper Comunque qualcuno È riuscito a deviare Quel pallone Pallone buono Attenzione per Satriano Satriano se l'allunga Forse un errore Satriano Il miracolo di Mignan Che non è uscito Mignan Fatta la scelta giusta Perché Questo è uscito Probabilmente Saremmo riusciti a piazzarla bene Tanto Il calcio d'angolo Questa volta però Lo schema non risulta essere Efficace Però il pallone buono Per Gudmund Che può calciare Che può calciare con potenza Se la pallone buono Per Frendrup La conclusione poi Il Milan va in semifinale Il Genoa di nuovo Che si ferma Ai quarti Con la differenza però Che Questa volta L'abbiamo affrontato La gara Nella maniera giusta Nella maniera che volevo Peccato ragazzi Per quell'errore Che ha poi portato il gol Di De Ketelare Peccato poi anche Per quel fallo Di Tony Lato Che però poi Super Samper Dal dischetto Ha bloccato La conclusione di Rafinha Ma alla fine Purtroppo non cambia Rossoneri che vanno In semifinale E Genoa fuori Si rimane a San Siro Non si torna a Genova Perché non affrontiamo il Milan Ma affronteremo l'Inter In questa ultima partita Dell'episodio L'ultima partita che vedremo Poi la prossima L'andremo a saltare In quadrata La tifoseria rosso-blu Che ha occupato Praticamente tutto Il settore blu Cosa che nella realtà È praticamente impossibile Visto che Vengono Sempre depositati Al terzo anello Stesso atteggiamento Col Milan E magari un punticino Riusciamo anche a strapparlo Quindi un Genoa Che deve evitare Di forzare la giocata Evitare di rischiare Troppo Soprattutto la davanti Perché appunto Contro queste squadre Alla fine Sono gli errori A deciderla Ciukweze Tacco Per Lautaro Vediamo se va da solo Invece no Si appoggia il tacco E poi di nuovo Socek Ciukweze Prova a piazzarla Ragazzi però Il calcio è strano Il calcio è strano La conclusione Più stupida Entra È incredibile La conclusione Più stupida Entra Qui se non c'è stata Diviazione È clamorosa Se non c'è stata Diviazione È veramente clamorosa Socek Ciukweze E io non so Se ci sia stata Diviazione Non sembra Vediamo da un'altra Forse sì però È come no Come no Come no Il braccio Di Cambiaso E infatti viene confermato L'autogol Elliot Con l'esterno Così Bravo Fred Come sei liberato bene Poi Singo Che punta la porta Avanza Singo Va da solo Attenzione Singo Onana poi Vuole nuovamente Palla Satriano Però poi andiamo da Goodmanson Ancora possesso Genoa Un quarto d'ora al termine Fred Attenzione perché c'è la possibilità Per andare A calciare Direttamente in porta E salvo Onana Cercare il secondo palo Poi Cambiaso Carica la gran botta Isaac Attenzione qui al tiro Mamma ragazzi Kimmich Finisce qui Ma questo è un super goal È un capolavoro Inter 2 Gena 0 Esplode San Siro Con la super conclusione Da quasi 25 metri Da parte di Kimmich Nulla da fare qui per Schemper Conclusione davvero Spettacolare E l'Inter nel primo tempo Avrebbe meritato Di farne almeno 2 di goal Nel secondo tempo Devo dire che il Genoa Mi è piaciuto molto di più Ragazzi Queste partite Sono sempre difficili Da affrontare Io credo che Forse Magari prossima stagione Avremo una rosa In grado di poter Così Poter un attimino Essere diciamo Più competitiva Contro certe squadre Però rispetto Gli anni passati Secondo me Siamo migliorati Comunque molto Soffriamo di meno Creiamo di più Io mi ricordo Le prime stagioni In A dovevamo Un Genoa Che contro queste squadre Non faceva neanche Un tiro in porta Qui invece abbiamo appunto Rischiato per più occasioni Di trovare il gol Del pareggio Quindi Sono Anche nella sconfitta Però Abbastanza soddisfatto Di quanto visto E contro la Lazio In casa Al Ferraris Il Genoa Vince Al minuto 85 Ragazzi Sono tre partite Che sul finale La risolviamo Con Arvilliot Per questa volta Battiamo la Lazio 1-0 Ottima difesa Andiamo a vedere La classifica Come ci salutiamo Mese adesso di febbraio Un attimino più sereno Un attimino più tranquillo Rivedremo il calendario Tra poco Abbiamo La classifica Che non cambia Perché siamo sempre A pari punti con Napoli A meno 3 dalla Roma E a meno 3 anche Dall'Atalanta Che è al quinto posto Attenzione alla Fiorentina Che è calata Da quando abbiamo detto Attenzione alla Viola Che prima in classifica Clamorosamente davanti alla Juve Basta L'ha praticamente poi Perse tutte E Juve adesso Momentaneamente Al primo posto Chiaramente mi sono sbagliato Prossimo episodio Mese di marzo Con Venezia Sassuolo Milan E Fiorentina Brutto fare calcoli Veramente brutto Ma Non mi dispiacerebbe Chiuderlo con 7 punti Contro queste squadre 7 punti Secondo me È abbastanza fattibile Supportate la serie ragazzi E noi ci vediamo alla prossima Ciao a tutti